Esprimo la mia vicinanza al popolo della Guatemala che vive in lutto per il grave e triste incendio scopiato all'interno della Casa Refugio Virgen della Assunzione, causando vittime e ferite tra le ragazze che vi abitavano. Il Signore accolga le loro anime, guarisca i feriti, consoli le loro famiglie adolorate e tutta la nazione. Prego anche e vi chiedo di pregare con me per tutte le ragazze e i ragazzi vittime di violenze, di maltrattamenti, di sfruttamento e delle guerre. Questa è una piaga, questo è un urlo nascosto che deve essere ascoltato da tutti noi e che non possiamo continuare a far finta di non vederla e di non ascoltarlo. Ascoltarlo 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 Ascoltarlo